Tu ci chiami, alla festa di una grande amicizia, noi veniamo signore all'incontro con te. Tu ci accogli alla messa, una messa contante, siamo in tua compagnia, non andremo più via. Tu ci chiami, alla festa di una grande amicizia, noi veniamo signore all'incontro con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio sia con tutti i buoni. E io penso che non ci siano parole più belle che grazie. Grazie a Dio per questa bella giornata, grazie a ciascuno di voi che ci ha creduto, grazie alle famiglie che oggi hanno scombussolato i loro programmi per essere qui, grazie a chi si è impegnato ogni giorno nel preparare questa giornata. Ecco, io sono contentissimo oggi, oggi proprio la nostra comunità mostra il volto più bello, quello di volersi bene, quello di stare insieme e insieme ringraziare Dio per il creato e impegnarci a tenerlo sempre pulito. Ecco, questa bellissima giornata, baciata anche da questo sole così splendente, davvero ci riempie il cuore di gioia. E allora celebriamo questa Eucaristia, chiedendo al Signore di sostenerci sempre nel cammino della vita. E chiediamo perdono a Lui dei nostri peccati, dicendo insieme, confesso a Dio Onipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato i pensieri, i parole, la morte e le omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, e gli angeli e i santi, e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, e innaziamo la nostra gioia, Dio con l'inno del Gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onipotente, Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo è il Santo, Tu solo è il Signore, Tu solo è l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, Amen. Preghiamo. Dio Onipotente ed Eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viva e regna con te dell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli e secoli, amico. Ascoltiamo ora la parola di Dio. Dal libro del profeta Isaria, dice il Signore del suo eletto, di Ciro, io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto l'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Parola di Dio. E veniamo grazie a Dio. Grande il Signore è legno di ogni lode. Grande il Signore è legno di ogni lode. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande il Signore è legno di ogni lode. Grande il Signore è legno di ogni lode, terribile sopra tutti gli Dei. Tutti gli Dei dei popoli sono nulla, il Signore invece ha fatti i cieli. Grande il Signore è legno di ogni lode. Data al Signore o famiglie dei popoli, data al Signore gloria e potenza, data al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri. grande il Signore è legno di ogni lode. Frostrate dal Signore e nel suo atrio santo, primi davanti a Lui tutta la terra, dite tra le genti il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Grande il Signore è legno di ogni lode. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è Dio Padre nel Signore Gesù Cristo. A voi grazie e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cambiamo insieme all'Angelo con l'Alleluia. Alleluia, 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 La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. Perché la festa siamo noi che camminiamo verso te. che che la festa siamo noi cantando insieme così la, 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 Alleluia, 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 Il Signore sia con voi e con voi Salmangelo secondo Matteo e con te di te in quel tempo i parisei se ne andavano e tenero consiglio per vedere come cogliere e farlo Gesù per i suoi discorsi e mandavano dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli Maestro sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non è soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque di a noi il tuo parere e ne citano pagare il tributo a Cesare. Ma Gesù conoscendo la loro malizia rispose Ipocriti perché volete mettermi alla prova mostratemi la moneta del tributo ed essi ripresentavano un denaro e gli domandò loro questa immagine è l'iscrizione di chi sono gli risponsero di Cesare allora disse loro prendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio parola del Signore non è che è Cristo ecco ragazzi una sola riflessione voglio fare no? vi siete accorti che qualcuno ma Gesù dice avevano la malizia nel cuore cos'è la malizia? la cattiveia qualcuno che aveva nel cuore la cattiveia va da Gesù e lo va a provocare a dire è giusto che noi paghiamo le tasse a Cesare o dobbiamo ribellarci o dobbiamo fare una guerra contro Cesare Gesù non è mai per le divisioni mai Gesù invece crede nel fatto che tutti possono offrire qualcosa di buono nella prima lettura sarà molto breve abbiamo sentito l'ascoglio di un re ricordate il nome di questo re nella macca di una salsa quello è Ciro quello è Ciro Ciro chi si chiama Ciro? nessuno ci sa più Ciro sei tu conosco a cui chi si chiama Ciro va bene Ciro era il re della Persia non era ebreo non faceva parte del popolo di Israele ma Dio si serve di questo straniero per salvare il popolo di Israele che stava in esilio lontano dalla sua terra e Ciro diventa uno strumento nelle mani di Dio vedete anche chi è lontano da Dio anche chi è lontano dal popolo di Israele viene usato da Dio per il bene tutti possono collaborare al bene allora Dio non crea mai delle contraddizioni delle contrapposizioni Dio non vuole le contrapposizioni ma Dio vuole che cerchiamo di andare d'accordo ragazzi voi siete piccoli portate a chiedere ai nonni ai vostri genitori che cosa fanno i grandi quando amano i loro figli chissà quante volte i nonni presenti forse possono darvi verità vedono che i propri figli litigano ma che fanno loro i genitori chiamano i figli creano delle contrapposizioni no che cosa fanno cercano di mettere d'accordo parlano con un figlio e dicono beh lasse stanno non si preoccupano beh la prossima volta quando è andato a te poi chiamano all'altro e dice a me non ti ricordo l'anno scorso tu sei avuto la pensione mia poi chiamano all'altro e dicono e certo un genitore che vuole bene mica mette un figlio contro l'altro anche se a volte una ragione è una torta un genitore che ama cerca di mettere la pace dice ma il figlio non è da tanto che non mangiamo insieme la domenica vedete tutti a casa a Natale non lo passiamo più insieme ma un genitore chiama i figli anche se stanno a volte nelle compressioni delle liti non li mette uno contro l'altro ragazzi e voi se amate davvero non dovete mai mettere un amico contro un altro se voi l'amate davvero non dovete amicciare il fuoco e dire quello ha fatto così devi scompagnarmi come dite voi devi scompagnare come dite voi staccare devi staccare devi staccare staccare da questo no poi dobbiamo essere capaci di mettere tra te o tutti in cima mai atteggiamenti di contrapposizione ma sempre uno stile di comunione ecco prendiamo di un'altra parte di un'altra di un'altra Grazie. Grazie. Dio da Dio, luce da luce, io vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu un crocifisso per noi sotto porzio pirato, morì a più sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà la gloria per giudicare i figli e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, è il Signore della vita, e procede dal Padre e dalla figlia, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti, e della Chiesa, con una santa, cattolica e acquastolica, professo in solo l'attesimo per il perdono dei peccati, e aspetto alla risurrezione dei morti, e alla vita del mondo che verrà. Ora possiamo sedere, dopo la comunione, i ragazzi leggeranno una preghiera, ecco che è la giornata missionaria mondiale. Possiamo cantare insieme il canto di offertori. Benedetto sei tu, Signore, per il pane e per il vino, i frutti che ci dai. Benedetto sei tu, Signore, per il pane e per il vino, che in corpo e sangue tuo trasformerai. Dalla buona terra, dall'acqua irrigata, nascerà la spiga che il grano ci darà. Dalla grande forza, nell'uomo che lavora, il grano e il pane buono si trasformerà. Benedetto sei tu, Signore, per il pane e per il vino, che in corpo e sangue tuo trasformerai. Dalla buona terra, dal sole illuminata, nascerà la spiga che il grano ci darà. Dalla grande forza, nell'uomo che lavora, il grano e il vino buono si trasformerà. Benedetto sei tu, Signore, per il pane e per il vino, i frutti che ci dai Benedetto sei tu, Signore, per il pane e per il vino, che il corpo e il sangue tuo trasformerai Benedetto sei tu, Signore, per il pane e per il pane e per il pane e per il pane e per il piano e per il pane 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 e per mettere grazie a te Padre Santo per Gesù Cristo Signore nostro, egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi salvatore redettore, per compiere la tua volontà e acquistanti un popolo santo egli spese le braccia sulla cruce e morendo discusse la morte e proclamò la risurrezione, per questo mistero di salvezza o di tagli angeli e santi cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei Cieli, osanna nell'alto dei Cieli, Santo, 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 Santo è il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i Cieli e la Terra sono pieni della tua e la tua gloria, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei Cieli, Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria. Padre veramente Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatele tutti, questo è il mio corpo, ho aperto di sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e benetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna leanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E preghiamo insieme dicendo, il Signore Gesù si offre per noi. E il Signore Gesù si offre per noi. Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo Padre il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, oh Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'Ondire sacerdotale. Preghiamo insieme e diciamo, gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Ricordati dei nostri fratelli, delle nostre sorelle che sono morti nella speranza della resurrezione e tutti dei tutti che si affidano alla tua plemenza, ma mettili a godere la luce del tuo volto. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Dio e tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre, Onipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Oppedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, passiamo di. Padre nostro, che sei i secoli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro Padre quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri territori, e non c'entra l'intentazione di mani per essere. Liberati, oh Signore, da tutti i mori, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni turvamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu e me, con tutta la patenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, mi dette i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi no la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, le donare, purità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni, nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Signore. Scambiatevi un segno di pace. La pace del Signore. La pace del Signore. La pace del Signore. È importante, è piccola ma gigante, la parola da non dimenticare, che vuol dire amare, amare, è la parola che più mi piace, è pace, pace, pace. La parola che più mi piace, è pace, pace, pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ammi e pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati limitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lo Signore non so che i miei peccati del mondo, non so che i miei peccati del mondo. E noi ci mandati alla parola di Dio sta a posta. Adesso si fa la comunione, ecco farò prima la comunione, è a qui. Sono qui davanti e poi passerò dietro per voi, quindi gli adulti aspettate dietro, vengo dietro i ragazzi e poi nella comunione. Prendiamo il capo dell'onore e il pari di salvezza, sulla terza pagina del discorso. Tu, spalle di salvezza sei per noi Gesù, sei la forza di un cuore fedele, crediamo in te. Tu, con te di speranza vivi dentro noi, come fuoco d'amore che brucia, sei verità. Noi cantiamo la gioia perché siamo qui con te, tu sei il pane della vita, tu sei grande nella gloria, sei il Signore. Tu, con te di salvezza sei per noi, come fuoco d'amore che brucia, sei la nostra libertà, il Signore dei Cieli, il Padre dell'umanità. Noi cantiamo la gioia perché siamo qui con te, tu sei il pane della vita, tu sei il grande nella gloria, sei il Signore. Tu, eterno generato, fratello in mezzo a noi, tu sei il figlio, parola di vita, sei il pace in noi. Tu, sceso sulla terra, ci chiami all'unità, tu sei il dono d'amore, del Padre per l'eternità. Noi cantiamo la gioia perché siamo qui con te, tu sei il pane della vita, tu sei il grande nella gloria, sei il Signore. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Signore, tu hai detto a noi, io sono il pane non avrà. Signore, io sono il pane della vita, e chi viene a me più il pane non avrà. Allora adesso a tutti i ragazzi verrà data questa preghiera e la giornata mondiale dei ragazzi ognuno di voi conservi questa preghiera perché vedrete che dietro c'è un numeretto che abbiamo scritto noi no? per esempio vedi un po' che numeretto Rebeca? che numeretto c'è a te? no gira gira c'è un numero scritto scusate posso fare un numero? eravate ripassati con la bicicletta avete visto vi siete fermati? grazie volete scoprare un 11 Rebeca? no ci c'è un numero dietro sapete che serve questo numero? che cosa? sentiamo? numeretto io non lo so manco ripeto ecco facciamo così questo biglietto serve perché domenica prossima durante la messa delle 10 verrà fatta l'estrazione e quindi domenica e quindi domenica durante la messa delle 10 ci saranno dei premi compreso l'overboard non so che si chiama l'overboard l'overboard quindi per i ragazzi che hanno partecipato a questa giornata che hanno dato il proprio contributo per ripulire ecco il nostro paese avete questo numeretto anche i ragazzi della CR è giovanissimo anche voi anche giovanissimi e tu è giovanissimo voi comunque venite la messa alle 11 e mezza ragazzi della CR venite comunque la messa della CR alle 11 e mezza anche giovanissimi tolvi di coio se avete vinto invece per gli adulti l'altro domenica facciamo un'estrazione per una settimana gratuita la termine la termine va bene ecco mentre finiamo di distribuire le tre ghiere che adesso facciamo insieme voi siete di passaggio o siete venuti a casa? siamo venuti alla sala ah siete venuti alla sala l'avete visto qui vi siete fermati un attimo a vedere la messa va bene buona domenica e ovviamente ringrazio tutti gli uomini di Vino di Vino di Vino di Vino di Vino di Vino ho visto qualcuno qui ma adesso se ne fa curato ecco hanno sacrificato la nuova domenica per stare con noi e quindi questo grazie ecco ringrazio anche tutti gli amici del Ravo ringrazio i ciclisti che si sono fermati bravi ringrazio davvero tutti per questa presenza e soprattutto chi si è impegnato da maggio addirittura preparare questa giornata chi ha organizzato i giochi chi ha cantato tutti quanti la misericordia avete visto ci ha dato una vera mano perché grazie a Dio non è servita la tubulanza però erano presenti vediamo dopo pranzo dopo pranzo potrebbe servire qualche pesantezza e il pollo intero che avete mangiato Rosinella ha portato 5 litri di vino va bene grazie a Dio la tubulanza perché vi siete offerte con volontari la lupa e la può servire dunque è preziosissima l'opera che fa spero che anche la raccolta che sta facendo la misericordia ecco per acquistare un nuovo mezzo arrivi a bocchini allora prendiamo la preghiera tutti insieme tutti insieme grazie a tutti vieni per piacere caro giusto allora devo presa la preghiera ok allora tutti insieme la preghiamo insieme a Grazia caro Gesù ti prego affinché ogni bambino possa avere una famiglia che lo accodisca del cibo per nutrirsi è una buona istruzione aiutaci a ritorare questo mondo aprendo le nostre porte ai tanti bambini che fuggono dalla loro terra così da vincere l'indifferenza donaci un cuore grande come il tuo ame i nostri cari genitori hanno preparato anche questo simbolo fatto con materiale da riciclaggio ecco lo consegneremo come simbolo di questa giornata adesso verrà distribuito durante il canto finale ok ragazzi e grazie davvero e mi raccomando vi lascio un compito ogni volta che vedete papà o mamma buttare una carta per terra un pacchetto di sigaretto che vuoto per terra una carta delle caramelle un foglietto riproverateli e dite papà mamma non si butta nulla per strada tutto nelle pantomiere differenziate ok siete d'accordo? non ho sentito siete d'accordo? sì bravissimi il signore sia con voi e con il suo figlio vi benedica Dio di potente e misericordioso padre e figlio e spirito santo amere buona festa a tutti buon pranzo e manciamo insieme quello che abbiamo portato un calcio finale mi sono permesso di riprendere questo prenderemo in largo sull'ultima facciata del foglietto è stata una cosa bellissima il fatto che vi state fermate grazie bene bene allora oh chi è il bello? no non sono io anche oggi dice a noi se dall'alto vengono e insieme a me saliremo in questa parte e quindi anche una semplice messa è detta quando la vediamo tra l'altro fa in modo che qualcuno che viene da qui si fermi come per i due cittadini o come per i due signori che erano venuti al ristorante questo è nostro tempo questo è il mondo che ci sono per me che vediamo adesso non sarebbe male un'idea nel periodo estivo o in un'idea o in un'idea diciamo quelle temperature belle quindi niente potrebbe essere un'idea buona domenica a tutti ciao 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 ciao